Fun numbers! Vai, Pokemon, cattura questo tangelo! Ma che stai facendo? Ma che c***o? Ash, tu hai dei seri problemi. Posso catturarlo? No che non puoi! È uno dei cattivi più famosi al mondo! Il potentissimo Anakin Skywalker! Signore dei Sith rivelatosi padre di Luke e Leia! Sei finito! Cavoli, questa volta non sono riuscito a catturare nemmeno un Pokémon! Ash, ti rendi conto che finora nessuno di quelli che hai catturato era un Pokémon, bensì un personaggio di un'altra realtà, vero? Ma lei mi ha detto che andavamo alla ricerca di Pokémon! Sì, ma per quel maledettissimo Arceus ci siamo sempre ritrovati in una realtà differente rispetto alla nostra! Quindi è chiaro che quelli non fossero Pokémon! Beh, se lo dice lei! Certo che lo dico io! Sono io il professore! Tu sei solo un poppante che ha dei seri problemi psichiatrici! Mi domando come se la passino i miei non Pokémon! Esatto, non sono Pokémon! Dicevo, mi domando come se la passino i miei non Pokémon all'interno della loro unica Pokéball! Mi stai dicendo che non li hai ancora separati? Beh, non ho ancora avuto il tempo, sa! Non sono ancora andato in un centro Pokémon! E poi chissà, magari nel frattempo avranno fatto amicizia tra di loro! No, non era così! Com'era? Ah, ci sono! Luke, io sono tuo fratello! No, non suona bene! Luke, io sono mia sorella gemella! Ecco, così potrebbe suonare! Signor Vader! Chiamami Darth Vader! Ok, signor Darth Vader! Va tutto bene! Ho visto che stava farneticando qualcosa sul suo albero genealogico! Pensi che nel mio non c'è nessun supereroe! Ragazzino, sai quanto può fregarmene di cosa c'è nel tuo albero genealogico? Un pochino! Una beata fava laser! Quindi, se permetti, lasciami provare ancora! Non prendertela, Deku! Lui è fatto così! Sta nella parte... in ombra! Si dice il lato oscuro, brutti bimbi minchia che non siete altro! Io alla vostra età vincevo le corse degli sgusci su Tatooine bendato tenendo il volante con gli alluci dei piedi! Ehi tu! Non è che sei parentato con una scimmia che ha il cervello di fuori e si chiama Mojo Jojo? Ah, ci mancavano le super cagac***e chicche! Con le loro voci video che fanno tremare i vetri! Comunque non conosco questa scimmia di nome Mojo Jojo! E se la conoscessi gli darei qualche consiglio per sbarazzarsi di voi! Ehi ragazzi, ragazzi state calmi! So che la situazione è abbastanza claustrofobica e state dando di matto! Che vorreste essere nei vostri mondi a farvi i c***i vostri! Ma purtroppo siamo bloccati qui e di conseguenza dobbiamo cercare di restare uniti e trovare il modo di uscire da qui! Ehi, la brutta coppia di Ash ha ragione! Io non sono la brutta coppia di Ash, razza di vecchio con la maschera robotica e la prostata! Ma come facciamo ad uscire da qui? Allora, il piano è questo! La prossima volta che Ash proverà a catturare qualcuno, la pokeball si aprirà! E visto che noi abbiamo dalla nostra parte le tre ragazzine che hanno al posto della voce delle dannate sirene, cercheremo di farci strada per uscire da qui! Sì, ma come? Semplice! Le superchicche sanno volare! Però io soffro di vertigini! Allora preferisci stare qui a marcire ed essere la sua p***nella ogni qual volta ti chiamerà in causa? No! Allora smettila di fregnare! Cambiati il pannolone pieno di merda e inizi ad usare la testa! Sì, ma come faremo a tornare ognuno nel proprio mondo una volta usciti da qui? Beh, molto semplice! Sarà sufficiente rubare il telecomando a quel povero babbeo di Ash! Astuto, ragazzo! Potrei quasi chiederti di passare all'altro scuro! No, grazie, non fumo! Ma che c***o! Che bello! Una volta uscita voglio rivedere il mio super maestro muscoloso! E io non vedo l'ora di tornare ad essere il protagonista di Pokémon Spada e Scudo! Noi invece non vediamo l'ora di ritornare a casa per proteggere la nostra città! E io non vedo l'ora di guardarmi la serie The Mandalorian sulla piattaforma Disney Plus! Ma che c***o! Dove stiamo andando, professore? Per ora voglio cercare di uscire da questo fottuto bosco! Attento, professore! Quella è una merda! Ma por- Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto come al solito fateci sapere qui sotto nei commenti! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video dei FanDubbers! E ora passiamo ai salamapari paturuputututupà! Io che sono Hawk ci tenevo a salutare Stefano Parise! Ciao Stefano! Mi raccomando se vuoi venire con me Ash stai attento alle sue Pokémon! Ciao io sono Kermit e volevo salutare RedDragon8810! Ciao RedDragon! Io e Sel ti aspettiamo sulla sua arena, non mancare! Io che sono piccolo scogliettonino ci tenevo a salutare BlueSit! Ciao BlueSit! Ciao, io sono Watson e volevo salutare Twitch Agliaro! Ciao Twitch Agliaro! Io e Sherlock ti aspettiamo per fumare il Bong insieme! Ho 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 ho!